non posso far a meno di chiedermi se riusciremo a fermare quest'ondata di male stronghold è stata sopraffatta rapidamente hai sentito parlare dell'arma segreta che nekros sta costruendo secondo me si sta costruendo una fortezza con la magia di una terra lontana lord oscura ha sterminato la mia famiglia devo contenere la mia rabbia e concentrarmi quando combatto contro i nemici faccio parte della nuova elite vada come parli in mia presenza ci sono poche probabilità di uscire vivi da queste terre senza aiuto dovresti chiedere la protezione dei crociati possiamo aiutarti ad attraversare incolume queste terre infestate da banditi e legionari non ho tempo per parlare sono molto impegnato hai sentito parlare dell'arma segreta che nekros sta costruendo secondo me si sta costruendo una fortezza con la magia di una terra lontana è fatica di quello che sta costruendo una possibilità di do reciclare il nostro compagno da livelli che si poteva Posso avere l'aria giovane e inesperta Ma sarai in grado di sconfiggere anche un veterano come te Viva Celestia! Lei ci condurrà alla vittoria e alla gloria Non bisogna mai fuggire di fronte al nemico Forse tu pensi che sia la mossa migliore Ma cosa direbbero gli altri? Bisogna sempre anteporre l'onore alla codardia La fortuna o forse l'abilità ti condurranno verso la gloria Buona fortuna, che la luce sia con te Non lasciarti influenzare dall'oscurità Il potere ottenuto con l'inganno può essere un miraggio pericoloso Bisogna guadagnarsi il pane Fortifica la tua tempra così come il fabbro ferraio Ripiega il metallo centinaia di volte per forgiare finemente una spada Più tempo impiegherai a formarti il carattere Più strada farai nella vita Capite la tua tempura Si, potrebbe essere un rilabllo Grazie a tutti. 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 lascia. a tutti. 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 a tutti.